Buongiorno da Cremona, oggi siamo qui agli aprile Razer Days, come potete sentire c'è già qualcuno che scalda le moto Qui dietro ci sono un sacco di RSV4 e un sacco di tuono, è uno spettacolo e oggi giro con lei Oggi non giro con la 250 ma giro con la RSV4 1100 Factory, 217 CV quindi non vedo l'ora di entrare in pista Bene, tra 20 minuti entriamo per il primo turno, guido poco la RSV4 quindi mi dovrò abituare però non vedo l'ora, è troppo bello Tra l'altro qui ai Razer Days, oltre a venire a provare le Aprilia troverete anche degli istruttori super qualificati Che vi insegneranno i segreti della pista, qua abbiamo il nostro super istruttore, due allievi Come sta andando? Aspetta, mi prometto un attimo Come sta andando? Alla grande, è molto bello Sì sì, è molto bravo Abbiamo migliorato i tempi Quindi sapete che oltre a provare le Aprilia nuove, migliorate anche la guida Allora, questo è l'istruttore, Emiliano In cosa consiste il test ride via Aprilia Racers Days? Consiste nel provare i modelli di punta 2020, quindi l'R64 Factory, il buono, gli ultimi modelli E diventa anche un pretesto, oltre che per guidare la moto nel 2020, per imparare qualcosa di nuovo che poi metteranno in pratica successivamente anche quello del loro modello Perfetto, grazie Qui abbiamo tutti gli allievi che stanno per partire, adesso proveranno l'Aprilia che... Vedete che oltre ad avere delle moto fantastiche, troverete dei compagni di corso simpatici E burloni Qui abbiamo l'istruttore pronto ad entrare, come sono questi miei? Numero uno Numero uno Ho dato due dritte, adesso li porto dentro, che gli faccio vedere due tra i suori ideali che vogliono imparare a spigolare col mille, quindi insediamo... Grandi! Ma queste moto, questa tuono e queste moto, sono a posto? Come sono queste moto? Spettacolari Utilizzo pista, settate con danno per questo utilizzo e sono fantastici Grande! Buon turno! Grazie, ciao dopo! Grazie, ciao! La nuova RSV4 1100 factory a 217 CV è una cosa esagerata Adesso vado nel box istruttori a confrontarmi con loro per capire cosa ne pensano della moto e anche per vedere se fanno qualcosa di diverso da me di guida, visto che la guidano da un sacco di tempo e cercate di capire se si può migliorare qualcosa Questa è una cosa esagerata Grazie a tutti. Primo turno del pomeriggio fatto, inizio a capirci veramente qualcosa. Adesso sto guidando meglio e ce l'ho un po' più in mano, quindi inizio a divertirmi. È incredibile quanto vado a porte, sentitela, è sempre uguale a questa. Adesso inizio a prenderci veramente di confidenza, inizio a prenderci gusto. Non vi posso dire in quanto ho girato, perché preferiamo tenere i tempi un po' riservati. Ma sicuramente farò un video a Cremona dove vi farò vedere il tempo, che così fate un po' di confronti, un po' di queste cose qui. Detto questo, io adesso mi rimetto il casco e vado a fare l'ultimo turno. Grazie a tutti. 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 Vi do appuntamento al prossimo Racer's Day perché sicuramente rifarò il vlog della giornata. Detto questo, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un commento e lasciate un like anche. Mi fa molto piacere. E detto questo, ci vedo al prossimo video. Ciao.